Il futuro della magia dipende solo ed esclusivamente da te, perciò devi essere pronto. E se vuoi far parte dei migliori prestigiatori del mondo del futuro, rimane fino alla fine di questo video. Ciao, sono Sergio Starman e ti do il benvenuto. So esattamente come ti senti. Lo so perché ci sono passato anch'io. Perciò se tu vuoi far parte dei migliori prestigiatori del mondo del futuro, devi ascoltare questo video fino alla fine. Hai capito? Punto numero uno ed è davvero molto importante che tu ascolti questo punto. Che cosa ha questo punto così di importante? Questo punto ha una cosa dentro che è quello che è la chiave di tutto. È la base di ogni singola cosa. E che cos'è? Devi smettere di guardare i video tutorial di magia su YouTube. Smettila. Questo è il punto numero uno. E perché dico questo? Eh, vabbè, ma così non guarderei neanche a me. Non importa. Tu devi comprendere che tutto quello che guardi su YouTube non ti serve. Non ti serve. Stai buttando via il tuo tempo. Cosa arricchisci? Cosa vuol dire? Vuoi sapere sempre un trucco nuovo, 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 un trucco nuovo. Per farlo a chi? Per farlo a chi? A chi devi coinvolgere? A chi devi fregare? Ai tuoi amici? Ai tuoi amici maghi? Di che cosa stiamo parlando? Tu devi metterti in testa che devi smettere di voler imparare trucchi, 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 trucchi. Capito? E adesso ti spiegherò il perché. Punto numero due. E qui mi gioco tutto. Devi smettere di comprare trucchi di magia a caso. Non ti servono. A meno che non siano indispensabili per una cosa che tu ne sia certo al 100%. Quello che io faccio con le persone che io seguo, quando stiamo costruendo una routine, un qualsiasi tipo di effetto, non li faccio spendere un euro. Perché? Prima di tutto perché viviamo in un mondo di consumismo che questo prima o poi dovrà finire, questa M che stiamo vivendo. Per cui smettetela di comprare trucchi a caso. Non servono. Non vi servono. Quello che faccio con i ragazzi, come ho detto prima, io li seguo in un percorso. Li faccio fare le cose con il cartone. Li faccio fare ritagliare con le forbici e fare delle cose con il cartone. Con cose che sono arrangiate così. Perché non è importante il trucco in sé stesso. Una volta che è stata creata la struttura della routine, che la cosa funziona e in quel caso se c'è bisogno di dover spendere i soldi, si spendono i soldi. Ma una volta che il periodo è già passato. Abbiamo già fatto tutto il processo, la struttura è stata creata, il cosa funziona e dico ok, devo investire questi soldi in questo perché questo mi può sapere. E così sì, così si può spendere soldi in un trucco di magia. Se no, se comprate i trucchi per comprare, li prenderete, li mettete nei cassetti. Ok, questo è quello che tutti noi abbiamo fatto. Tutti noi. Ho sentito l'altro giorno persone che hanno detto, io voglio portare tutto quello che ho comprato negli anni e donarlo alle persone che non ce l'hanno, ai club o eccetera eccetera eccetera. Perché? Perché avere tanta roba non vi arricchisce dentro. È quello che manca. Non vi arricchisce. Vi fa solo spendere soldi, vi svuotate le tasche e non portate nessun risultato. Ho visto ultimamente tanto una carta che diventa un orologio. Che è quello? Che cos'è? Una porcheria? Eh sì, però fai così e diventa un orologio. E poi? Non ha senso. State buttando via il vostro tempo, il vostro denaro. Prima di tutto trovate alternative. Provate, provate, provate fino a quando avrete capito che quella cosa sì è davvero indispensabile. Ok? Se per caso c'è una cosa che non sapete fare, potete chiedere ai vostri amici. Eh ma voglio comprare quello perché non so com'è e così almeno imparo e imparo il principio. Ok, mi sta bene. Ma non mi sta bene il fatto che uno spende a vuoto. Chiedete a un vostro amico, magari lui conosce il principio. La cosa bella della magia è questo. Uno normalmente prima comprava tanti effetti. Perché? Perché uno studiava il principio. Uno studia il principio di come è fatto quell'effetto e pensa come posso applicarlo a un futuro, a magari una routine che vorrò fare. E così mi sta bene. Il punto è che adesso non è più così. Adesso siamo solo dei pezzi di... Siamo delle macchine di consumo. Ok? Ci svuotano le tasche in continuazione. Ok? In ogni ambiente. Però io sto parlando adesso della magia. Per cui non vi voglio dilungare troppo. E prima di arrivare al punto numero 3 voglio farmi un invito. Un invito dove? Un invito a qualcosa che cambierà magari il vostro futuro. A qualcosa che vi farà uscire dalla zona di comfort. E che cos'è? Una cosa pratica. Una cosa che potete fare una performance davanti a migliaia di persone. Volete sapere come? Ok. Andiamo subito nel mio computer. Allora, come potete vedere è stato aperto il casting della selezione di Italia's Got Talent. Quindi di quest'anno. Per cui ovviamente uno si può iscrivere. Ora, io credo che la tv... Io credo che queste trasmissioni siano un'arma un po' doppio taglio. Ti può andare bene, come ti può andare male e un po' ti... insomma ti sputani. Detto questo però non è un problema. Perché? Perché io mi è venuta in mente un'idea e ho pensato di scegliere tre persone. Quindi tre di voi che seguiremo qua sul canale direttamente per vedere qual è il processo creativo per la creazione di quegli effetti e vedere di cercare di ovviamente arrivare alla trasmissione. Questa è la mia idea e quindi mi rendo disponibile per seguire tre persone e ovviamente che dobbiamo scegliere tra tutti voi. Quindi sceglierò tre di quelli che se la sentono di più, che sono più pronti. Per cui datevi da fare se vi va. E' un'uscire dalla zona di comfort, è un modo di mettersi in gioco e soprattutto che magari vi può anche aiutare. Dato che in questo momento non si stanno facendo di spettacoli e quindi ce ne sarà ancora per un po'. Però queste trasmissioni qua danno ancora la possibilità di fare qualche performance. Per cui, cari amici, chi è interessato davvero può iscriversi, prima di iscriversi al casting ovviamente, facciamo un punto, mi scriva anche sulla community e cercheremo di creare degli effetti. Quindi prenderemo dei video e vi farò aggiungere al canale di Telegram dove condivideremo tutti insieme la creazione di questi tre performance da portare ovviamente al casting di Italia Scott Talent. Se per caso uno di questi tre riesce a rompere la barriera e arrivare proprio ai Talents Got Talent, sarà un bel punto forte per tutti noi. Ok? Perché? Perché avrete capito come funziona tutto e quindi sarà una motivazione, un modo di più per fare in modo che voi l'anno prossimo possiate ancora prepararvi ancora di più oppure iscrivervi ad un altro talent. E finalmente il punto numero tre, dovete essere onesti con voi stessi, siate veri, siate credibili e soprattutto siate liberi. Ci vediamo domani, ciao! 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 Grazie a tutti.